Categoria Trading. Il premio è Forex Broker dell'anno. Andiamo a leggere subito la motivazione. Per essere un broker in grado di offrire oltre 1000 CFD su Forex, indici, azioni, materie prime, tassi finanziari, ETF e opzioni. Per l'innovazione attraverso l'utilizzo di tecnologie e infrastrutture ideali a creare un ambiente di trading ottimale e per il sostegno e la fiducia dimostrati costantemente dai clienti. Il premio va a ActiveTrades. Salutiamo con noi Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActiveTrades. Carlo Alberto è un piacere ritrovarti. Piacere mio, piacere mio. Insomma, cosa significa questo premio per voi nel panorama attuale soprattutto? Beh, è stato senz'altro un anno particolare e adesso di confermarsi ad una posizione di leadership a livello, per quanto riguarda il trading online, è senz'altro qualcosa che ci fa estremamente piacere. Questo significa anche il grande interesse, il grande affetto che i trader ci dimostrano e qualcosa di significativo per l'azienda. Ci fa capire che stiamo muovendosi nella direzione giusta per cui ci riempie d'orgoglio. Un anno in cui l'interesse per il trading online è sempre più vivo, insomma, quindi ancora di più e soprattutto in un momento in cui proprio per questo interesse più elevato si deve selezionare a chi rivolgersi. Quindi, insomma, in questo senso vado a sottolineare ancora di più quello che abbiamo letto nella motivazione. Nella motivazione abbiamo anche, come dire, portato all'attenzione la capacità di innovare, di riportare sempre in superficie l'importanza di avere delle infrastrutture che possano essere, appunto, innovative. Beh, direi che questa è la direzione in cui si è mossa ArtinTrade, cercando di non soltanto seguire quelle che sono le direzioni dei clienti, le richieste dei clienti, ma anche di anticiparle, di essere leader e anche di cercare di fare il mercato in queste direzioni. Quindi l'abbiamo fatto lanciando la nuova piattaforma ArtinTrade, che ormai non è più nuova perché ha già un buon anno ed è già testata e utilizzata da molti investitori, e ampliando la gamma dei prodotti offerti, tra le innovazioni di quest'anno, per esempio, c'è, oltre al CFD, sul future per il BTI e il brand, anche quello sul prezzo sport del petrolio, visto che il petrolio è stato uno dei temi centrali dell'anno, scivolando il territorio negativo un po' di mesi fa. Ma al di là di questo, proprio la tematica è legata all'innovazione, il fatto di cercare di essere innovativi, sia dal punto di vista tecnologico che anche con il rapporto con i clienti. E questa è una delle strade seguite da ArtinTrade, dall'origine in particolare in quest'anno, che vorrebbe piacere, intanto, anche per conquistare questo riconoscimento. Beh, anche il tema della fiducia dei clienti non è cosa scontata in questa situazione, giusto per concludere, infatti perché, appunto, fiducia che è molto penalizzata dalle circostanze e quindi ancora di più. Insomma, caro Alberto De Casa, come guardare al futuro in questo modo, seguendo questa direzione, direi? Senz'altro per ArtinTrade sì, ma hai toccato un tema importante perché anche quando si parla di fiducia nel terreno online, questo è importante, è molto significativo, e di tanto in tanto la consul fa anche delle liste di broker che vengono bannate, via dicendo, e io credo che sia molto importante continuare a spingere in questa direzione anche gli investitori affinché verifichino, affinché si rendano conto, affinché siano consapevoli anche nelle loro scelte, più che nelle scelte di investimento, o meglio anche nelle scelte di investimento, ma prima ancora delle scelte di investimento anche nella scelta del broker, per essere sicuri di capitare nelle mani giuste, mettiamola così, affinandosi ad aziende serie e regolamentate. Grazie, caro Alberto De Casa, e complimenti ad ActiveTrades per questo riconoscimento. Grazie. Grazie.